E' stato firmato questa mattina a Roma un protocollo per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e per assicurare il successo nell'attuazione delle procedure di appalto relative al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'accordo è stato siglato dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti, dal Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero Derao e dal Direttore della DIA Maurizio Vallone. Vediamo i dettagli con Paolo Martini. I fondi del PNRR devono servire all'Italia, non alla mafia, lo dice il Presidente Nicola Zingaretti annunciando che i 10 miliardi e 600 milioni di euro che la Regione Lazio gestirà saranno controllati da Procura e Direzione Investigativa Antimafia. Lo prevede un protocollo d'intesa siglato alla presenza della Ministra Lamorgese, dal Capo della DIA Vallone, dallo stesso Presidente della Regione e dal Procuratore Cafiero Derao. La Regione Lazio avrà la quota maggiore nell'ambito delle risorse che saranno messe a disposizione e quindi diciamo che come apripista sicuramente è un modello importante. Lo strumento per il controllo degli appalti sarà una piattaforma informatica condivisa su concessioni, autorizzazioni e finanziamenti della Regione. Conoscere e mettere a sistema le notizie, le informazioni è fondamentale per poter contrastare le mafie. L'auspicio della Ministra Lamorgese è che anche altre Regioni condividano il protocollo e i maggiori controlli non pregiudicheranno l'efficace utilizzo dei fondi europei. Conoscere i nastri di partenza di una procedura, la presenza o il rischio di attori che partecipano alle gare in odore di mafia evita che l'intervento avvenga alla fine del percorso, magari bloccando tutto. Legalità dunque non significa rallentamento dei tempi, assicura il Presidente della Giunta, che torna a lanciare allarme sul rischio infiltrazioni. C'è un aumento già iniziato di manovre sospette nella partecipazione degli appalti pubblici.